Prima a Pesaro, poi a Fermo. Giornata nelle Marche per Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, è possibile figura centrale in un prossimo ipotetico governo di centrodestra. Ospite dei coordinamenti marchigiani di Fratelli d'Italia, Crosetto oggi è stato a pranzo all'hotel Excelsior di Pesaro in un incontro conviviale con alcune delle principali personalità dell'imprenditoria e dell'industria del territorio. Imprenditoria fortemente preoccupata da un caro energia che invoca risposte concrete da questa campagna elettorale. Bisogna agire subito, non si può pensare che possa agire un nuovo governo che arriverà tra due mesi, perché il problema è adesso, le aziende stanno chiudendo adesso, la cassa integrazione sta partendo adesso. C'è solo un modo da fare, seguire quello che hanno fatto Germania, Inghilterra, Francia, Spagna, un intervento statale che blocchi il prezzo dell'energia a un limite massimo e che scarichi sulla spesa pubblica e il resto fin quando il gas non tornerà a prezzi accettabili e che consentano ai nostri imprenditori, alle nostre imprese, alle famiglie di sopravvivere. Basterebbe usare i fondi europei non spesi che sono 44 miliardi che dovremmo restituire tra un po' l'Europa. Dall'agenda elettorale al risponso delle urne, Crosetto ha ostentato fiducia su quello che sarà il verdetto espresso dall'elettorato. La parte d'Italia punta a essere determinante nel futuro governo per fare cose che servano a questo paese, poi il 28, il 30, il 35, l'importante è che esista una maggioranza politica coesa che possa in qualche modo affrontare i problemi. Al fianco di Crosetto i principali esponenti della provincia di Fratelli d'Italia e i candidati alle prossime elezioni Antonio Baldelli e la coordinatrice regionale Elena Leonardi. I riscontri sono sicuramente positivi, stiamo trovando sia noi candidati che ci muoviamo, sia il popolo di Fratelli d'Italia e del centro-destra, ma anche nelle piazze che vengono riempite praticamente giorno dopo giorno dal nostro leader Giorgia Meloni. Sentiamo un contatto, una vicinanza e una fiducia che ci sta dando la cittadinanza italiana. Il problema sicuramente sarà successivo nel senso di riuscire a dare quelle risposte e essere capaci della fiducia che sentiamo ci stanno dando. Per questo figure importanti che parlano e conoscono il mondo imprenditoriale, che sanno affrontare e lo hanno dimostrato con le proprie capacità e la concretezza come Guido Crosetto sono figure importanti da avere al nostro fianco per dare quelle risposte che i cittadini, le imprese, la nostra ossatura della economia reale sta chiedendo e che purtroppo fino ad oggi ha avuto difficoltà a trovare.